Dopo l'avvio già da ieri in diverse regioni italiane, da dopodomani anche in Abruzzo come dal resto d'Italia, arrivano i saldi invernali. Secondo l'ordinanza della regione avranno durata di 60 giorni e termineranno il prossimo 6 marzo. Vietato anticipare la scontistica almeno 30 giorni prima, mentre i commercianti sperano in un boom per reggere l'urto. Nel confronto tra la marcia acquistata a prezzo di costo e il limitato margine di guadagno dato dagli sconti. Io personalmente sono molto arrabbiata per i saldi il 5 gennaio, lo dico proprio sinceramente perché siamo in piena stagione invernale. Rovina questo purtroppo al commercio e al lavoro di Natale perché io ho clienti che già dei primi di dicembre mi chiedono gli sconti. Tanto tra un po' iniziano i saldi, e questa è la frase di rito tutti i giorni, quanto costa? Tanto tra un po' iniziano i saldi, iniziano i saldi, però noi la roba la compriamo a prezzo pieno. Io ho ricevuto l'ultimo pacco la settimana prima di Natale, sono sincera e non l'ho pagata a saldo, l'ho pagata a prezzo pieno. Questo complica i piani da un certo punto di vista, anche perché c'è tutto il periodo di Natale che vi aspettavate comunque, viste le festività, anche un giro diverso? Certo, certo. Allora diciamo che sono due anni ormai che il Natale è un po' compromesso vista la situazione che stiamo attraversando. Sicuramente quest'anno è andato meglio, parlo personalmente dell'anno scorso, perché l'anno scorso eravamo proprio chiusi. Eravamo in zona arancione, siamo stati chiusi il 24, siamo stati chiusi tutti i giorni prefestivi e festivi, quindi ci ha penalizzato parecchio, diciamo. Anche se non è il Natale degli anni passati, perché non c'è proprio l'umore purtroppo. E quindi questo si è penalizzato. Fiduciosi che i saldi partano, almeno qualche introito anche nel mese di gennaio e febbraio, sono due mesi duri in attesa della primavera purtroppo.